Beh che dire, internet è una realtà, internet è uno strumento molto utile e molto valido Sicuramente ha cambiato la vita mia come quella di tante altre persone che ci siamo dovuti adeguare a questo nuovo sistema Internet è comunicazione, internet è mal di testa, internet è truffa, internet è risparmio economico e shopping Internet tutela, il web è comunicazione, è utilizzo e aiuto di ricerca lavoro Quindi io credo che comunque da una scala da 1 a 100 internet sia stato valido al 70% Di conseguenza è un vantaggio ed è un'utilità Ciao